Assaltano un centro scommesse a magenta e sparano due colpi d'arma da fuoco in direzione del soffitto dell'esercizio commerciale con il volto coperto da calzamaglie. Così quattro italiani già noti alle forze dell'ordine sono rimasti in manette. Seminando il panico tre clienti hanno esploso due colpi per costringere il titolare a consegnare loro 10.000 euro. Terminata la rapina durante la quale nessuno è rimasto ferito, sono scappati su due auto facendo perdere le loro tracce. Nel frattempo però l'episodio era stato segnalato al 112 che aveva diramato l'allarme dalla centrale operativa di Abbiategrasso. La corsa dei malviventi è stata quindi fermata a Cesano Boscone dove i carabinieri hanno riconosciuto i veicoli segnalati e hanno intimato loro l'alt. Dopo i controlli li hanno fermati, tutti sono ritenuti responsabili di porto e detenzione illegale di armi clandestine alterate, ricettazione e rapina in concorso con l'uso di armi da sparo. Il fermo è stato possibile anche grazie all'aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro scommesse che ha reso possibile il riconoscimento. Nel corso della notte sono stati poi portati a San Vittore.